Ieri ultima giornata di somministrazione al lab vaccinale, un'esperienza durata un anno che ha coinvolto tanti medici, infermieri e volontari. Da oggi vaccini anti-covid in via Paoli. 66 sindaci, altrettanti consigli comunali, sindacati e associazioni di categoria, tutti riuniti ieri al Teatro Comunale di Sassari per chiedere alla Regione Alleni di mantenere gli impegni presi sullo sviluppo della cosiddetta chimica verde. Sabato all'Hotel Catalunia la presentazione del responsabile cittadino del partito Buona Destra, Sergio Grimaldi. Lo abbiamo intervistato. Un saluto a tutti voi, ben ritrovati telespettatori di CatalanTV. Apriamo il Tg dunque parlando della lotta al covid perché ieri è stata l'ultima giornata di somministrazioni del vaccino al lab del Mariotti. Da oggi tutte le attività vaccinali verranno eseguite nei locali del servizio igiene e prevenzione di via Paoli. Ieri ultimo giorno di somministrazioni al lab del Mariotti con tanto di fotoricordo per le persone che in 11 mesi si sono alternate per rendere il più efficiente possibile il centro vaccinale. Una quarantina di medici, un'ottantina di infermieri professionali, OSS, ma anche la grande squadra dei volontari, un centinaio, che nei giorni scorsi sono stati ringraziati dall'amministrazione per l'importante lavoro svolto dall'aprile dello scorso anno. Parlano i numeri, 160.000 vaccini somministrati su più di 60.000 cittadini, cui vanno aggiunte le 35.000 dosi inoculate in ospedale prima dell'apertura del lab avvenuta il 3 aprile 2021. Numeri importanti che hanno riguardato Alghero, ma anche i comuni dell'Interland. L'attività vaccinale ovviamente non si ferma. Le somministrazioni da oggi proseguono nei locali del Servizio di Igiene e Prevenzione in via Paoli. In questi giorni gli operatori del servizio hanno provveduto a contattare gli utenti già prenotati per riprogrammare gli appuntamenti nei giorni e nelle ore di apertura del sito di vaccinazione, che sono dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19. Importante è continuare a vaccinarsi, dunque, ma anche tenere alta la guardia, come dichiarato ieri dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo il nuovo aumento di contagi che si sta registrando. La pandemia non è scomparsa, ha detto, e il virus continua a circolare. Questa è una fase diversa, ma serve mantenere cautela. La protezione che ci danno i vaccini è altissima e ci sta consentendo di gestire questa fase, ma bisogna mantenere cautela, attenzione, prudenza e gradualità nel ritorno alla vita normale. Anche in Sardegna, così come in tutta Italia, è stato segnalato l'aumento di casi giornalieri. Confortante, però, la situazione negli ospedali. Il numero dei ricoverati nelle terapie intensive è stabile, 18, mentre i ricoverati in area medica sono 323, 13 in più rispetto al bollettino del giorno precedente. I nuovi casi registrati, invece, ieri sono stati 1.020, ma a fronte di meno tamponi eseguiti, 3.383, con il tasso di positività che è schizzato al 30%. Cambiamo argomento. 66 sindaci e altrettanti consigli comunali, sindacati e associazioni di categoria, tutti riuniti ieri al Teatro Comunale di Sassari per chiedere alla Regione e all'Eni di mantenere gli impegni presi sullo sviluppo della cosiddetta chimica verde nel polo industriale di Porto Torres. Presenti anche il commissario della provincia, Pietrino Fois, diversi consiglieri regionali e i parlamentari eletti nel territorio. Assente per altri impegni istituzionali il presidente della Regione, Cristian Solinas, rappresentato dall'assessore regionale dell'industria, Anita Pili. La Regione è convintamente impegnata al fianco dei lavoratori per ottenere il rispetto degli impegni assunti, ben 11 anni fa, dal governo nazionale e dall'Eni, e i loro ritardi non sono più accettabili. Si tratta di un progetto necessario per il rilancio del territorio e per lo sviluppo sociale ed economico della Sardegna, ha detto Solinasieri in serata. Le rivendicazioni del nord-ovest Sardegna riguardano l'attuazione del protocollo d'intesa sulla chimica verde, siglato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26 maggio 2011. E oggi è attuato solo parzialmente un'intesa che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto riconvertire gli impianti industriali ex Enichem di Porto Torres in un moderno polo della chimica bio sostenibile. Sentiamo ora anche le parole dell'assessore regionale dell'industria, Anita Pili, a margine della maxi-assemblea di ieri a Sassari. La presenza di questa mattina all'incontro organizzato dalle parti istituzionali del territorio di Sassari vuole significare l'assunzione di responsabilità quali sottoscrittori dell'accordo della chimica verde. In particolare ci faremo parte attiva perché sia riattivata immediatamente la cabina di regia e sia riattivato il coordinamento e il monitoraggio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. E' necessario assolutamente che Eni sia richiamata alle sue responsabilità perché questo territorio merita risposte concrete. Portare a compimento l'accordo della chimica verde significa dare attuazione alla responsabilità sociale in termini di occupazione, produzione, valore aggiunto, che quell'accordo doveva avere nel 2011 per il nostro territorio e soprattutto ancora più attuale in un momento contingente come quello che stiamo vivendo in cui la maggior parte delle risorse del PNRR sono trasferite a progetti di economia circolare. La politica cittadina dopo la designazione del nuovo coordinatore Marco Di Gangi in Fratelli d'Italia ad Alghero si è costituito un esecutivo del quale fanno parte oltre al coordinatore Di Gangi i consiglieri comunali Monica Pulina e Giovanni Monti e l'assessore Alessandro Cocco, Giuseppe Cardi responsabile dei rapporti con il territorio, Tonio Monti responsabile dei rapporti con i rappresentanti delle partecipate, Alessandra Erbi cui è stato attribuito anche il ruolo di responsabile del tesseramento e Maurizio Papa anche in qualità di coordinatore dei dipartimenti tematici. In seno al direttivo sono stati poi inoltre attribuiti i seguenti incarichi responsabile dell'organizzazione Luca Tortolo, segretario amministrativo Gianni Paes, responsabile in relazioni interne Maurizio Di Gangi, relazioni con gli altri circoli territoriali Giuseppe Pibiri. Infine il ruolo di responsabile della comunicazione è stato attribuito a Fabrizio Ezzi, mentre quello di responsabile del costituendo circolo di gioventù nazionale è stato attribuito a Walter Noli e Emanuele Fais. Si è poi dato avvio in sintonia con i livelli provinciali e regionali del partito alla costituzione dei dipartimenti, ciascuno dei quali avrà specifiche competenze con particolare riguardo alle tematiche di interesse cittadino. Tra i prossimi obiettivi quello di costituire ad Alghero il circolo locale di gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia coinvolgendo i giovani tra i 14 e i 32 anni. Con questa squadra finalmente coese fortemente motivata, Fratelli d'Italia intende rafforzare la propria presenza ad Alghero anche per stare al passo con le aspettative di crescita del progetto di Giorgia Meloni e poter dare il proprio pieno contributo alla comunità locale, declinando i valori che il partito tenacemente e coerentemente sostiene e difende a livello nazionale, si legge in una nota. E si è tenuta invece sabato all'hotel Catalunia la presentazione del responsabile cittadino del partito Buona Destra, Sergio Grimaldi. A presiedere la riunione il coordinatore regionale Torepiana, il vice coordinatore regionale l'olbiese Marco Buioni e in collegamento web da Roma il segretario nazionale Filippo Russi. Nel corso della presentazione sono intervenuti tra gli altri gli ex sindaci Marco Tedde e Mario Bruno e il consigliere comunale Cristian Mulas. Ma sentiamo proprio le parole dello stesso Grimaldi. La Buona Destra avete radici anche a Dalghiero, lo farà e lo sta facendo come tutta la Sardegna. Prima di parlare però dei programmi della Buona Destra, partirei dal fatto che l'altro giorno c'è stata questa assemblea aperta, di fatto dopo due anni caratterizzati dalla pandemia. E questa è una notizia positiva. Sì, molto positiva. In realtà questa riunione è stata una presentazione. Io prima di fare, poi magari ti spiegherò meglio, ma programmi e coinvolgere, insomma, creare un organigramma, ho ritenuto giusto presentarmi a quelle che sono le realtà, le forze politiche della città. Questo anche per mandare un segnale che, voglio dire, grazie a Dio è stato colto, perché sono intervenuti e hanno fatto delle analisi molto in linea con quello che è il nostro modo di porci e di essere, e quindi hanno intervenuto sia Marco Tedde che Bruno, Christian Mulas, c'erano comunque, anche chi non è venuto, ha voluto testimoniare, voglio dire, il suo appoggio a questo tipo di scelte. Per esempio, Raimondo Cacciotto mi ha fatto una bellissima lettera che pubblicherò. Questo, insieme alle presenze, insomma, in sala, ci hanno fatto capire che è stata molto apprezzata. Anche i commenti che sono susseguiti la sera, l'indomani, mi incoraggiano in questa direzione. C'è voglia di buona destra ad Alghero? Con quali obiettivi, con quali programmi si affaccia questa realtà politica in città e non solo? Guarda, i programmi, ti ho accennato, sono veramente da costruire, sono da costruire insieme e in realtà noi andiamo a cogliere quello che è un grande vuoto che tutti possono osservare. C'è tanta gente che ormai non segue più la politica e quindi c'è tanta gente che si è allontanata, un po' derusa da questo tipo di politica nazionale e questo viene anche osservato a livello locale. Noi dobbiamo, in questo momento, cercare di costruire un gruppo di lavoro molto aperto, dialogando. Il mio compito con quello di coordinatore non è quello di correre a una candidatura, ma quello di coordinare. quindi trovare nelle realtà della città produttive, sociali, di qualsiasi tipo, delle professionalità, delle persone che vogliano spendersi, persone che abbiano anche già avuto esperienze di questo tipo, che magari non avendo la possibilità di crescere un partito tradizionale, noi in qualche modo siamo aperti a considerare tutte le figure che possano realmente spendersi. noi abbiamo un foglio bianco, guarda Stefano, e il foglio bianco oggi ci permette, io ho pieno mandato sia dal partito che dal coordinatore, e questo oggi mi permette di potermi sedere e ascoltare senza nessun pregiudizio, senza nessuna remora, siamo veramente una cosa talmente nuova, e questo mi fa ben sperare, perché potremmo essere la Malta per andare a creare un centro, un centro destra che dialoga con la sinistra, con programmi a medio, lungo termine, che vanno sostenuti da tutti per i beni di questa città. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo subito. Rientriamo in studio Cultura, in apertura di seconda parte del nostro telegiornale, si apre infatti una nuova settimana di conferenze all'Ute di Alghero. Parliamo dell'appuntamento di questo pomeriggio alle 16.30, sempre nella sede di Via Sassari 179. Sarà la dottoressa Emma Fenu, scrittrice, presidente dell'Associazione Cultura al Femminile, ma anche autrice di romanzi e saggi ed esperta di scrittura creativa, a tenere per la platea di scritti un'interessante conferenza dal titolo Il mito di Medea nella letteratura contemporanea. E approda anche in Sardegna il mini-tour del film Il mondo a scatti, realizzato da Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli, scusate, presentato alle giornate degli autori della Biennale di Venezia 2021. Due gli appuntamenti, il primo al Supercinema di Carbonia, domani alle 21, mentre il secondo sarà nella sala conferenza del Qualtè, venerdì 18 marzo alle 18.30. Le proiezioni sono organizzate dai centri servizi culturali, delle società umanitarie di Carbonia e di Alghero, appunto in collaborazione con il Supercinema di Carbonia e con il sostegno della Sardegna Film Commission. Per quanto riguarda la proiezione di Alghero, questa sarà d'ingresso gratuito, ma è consigliata la prenotazione telefonando allo 079 974 375, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18, oppure si può scrivere all'indirizzo alghero-umanitaria.it. Entrambe le proiezioni saranno accompagnate dal regista Paolo Pisanelli, che ha costruito il film insieme a Cecilia Mangini, straordinaria documentarista, scomparsa nel gennaio 2021, con un intreccio tra vita privata e carriera, tra passato e presente, come un viaggio nel mondo delle immagini e delle trasformazioni. Il film è una produzione, officine, visioni, luce, cine, città, con Rai Cinema ed è distribuito da Luce Cine Città. L'ingresso alle proiezioni è consentito con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2. E si svolgeranno il 17 e 31 marzo i primi due incontri del progetto Genitori, figli, società, organizzato dall'Associazione Culturale Interrios di Villanova-Monteleone, con il diretto coinvolgimento e la collaborazione dell'Istituto Comprensivo Statale Eleonora d'Arborea, la parrocchia e il comune. Gli incontri che sono inseriti all'interno del festival La Cultura Oltre i Confini saranno tenuti dalla dottoressa Patrizia Virgilio, autrice del libro L'armatura dell'educatore, manuale semiserio per genitori e per tutti coloro che si occupano di educazione. È consulore, formatore per adulti e insegnante nelle scuole dell'infanzia. I due incontri si terranno nel salone dell'Associazione Misericordia, piazza dello Guibba numero 7, a Villanova-Monteleone, alle ore 18. Questa iniziativa accolta favorevolmente e con interesse dalla dirigente scolastica, la dottoressa Laura Neri, dal parroco, il dottor Francesco Tavera e da tutta l'amministrazione comunale con la collaborazione dell'Associazione Misericordia è rivolta ai genitori, a tutto il mondo della scuola, agli educatori in generale, a tutti coloro che vogliono rapportarsi e confrontarsi con le problematiche che affronta il progetto e anche come aiuto a liberarsi dagli strascichi che ha creato il Covid-19 in questi ultimi anni a tutti i livelli. Nasce l'area canina nel parco Tarragona di Alghero, un vasto spazio all'interno del polmone verde del centro del comune catalano dove poter far giocare e correre nei nostri amici a quattro zampe. Un ulteriore servizio che viene proposto da Folia Bio, gestore del parco Tarragona di Alghero, questo in vista di ulteriori progetti che saranno realizzati nei prossimi mesi al fine di aumentare l'offerta di svago, relax e benessere per gli algheresi e villeggianti. Proposte che saranno anche connesse con l'eccellenza agroalimentare e denogastronomiche del territorio, oltre che gli attesi e classici giochi e format anche didattice per la diffusione della tutela ambientale dedicati ai più piccoli. Ed ora parliamo di basket femminile, in particolare degli a serie B, con la costruzione Valentino Pallacanestro Alghero che ha mancato di un soffio. La prima vittoria in campionato proprio nella gara che ha chiuso di fatto la stagione regolare. Abbiamo parlato dell'andamento della stessa stagione e dei prossimi play-out con il coach delle Giallorosse, Matteo Mastropietro. Coach, si è chiusa questo fine settimana la fase regolare del campionato di serie B femminile. Purtroppo è arrivata una sconfitta, una sconfitta di misura. Resta la mano in bocca perché potevano arrivare due punti. Beh, assolutamente sarebbe stato più soddisfacente per le ragazze, per lo staff tecnico, per tutta la società concludere la stagione regolare con una vittoria. Ma diciamo che le soddisfazioni per il risultato finale non mancano in quanto la squadra è una squadra che continua a lottare, una squadra che continua il suo percorso di crescita e le ragazze stanno continuando a dimostrare che non abbiamo sbagliato la scelta iniziale. Le ragazze stanno crescendo e le ragazze sono contente di rimanere con noi e sono convinte del progetto. La squadra che continua il percorso di crescita, tante ragazze giovani. Assolutamente. Diciamo che il nostro progetto iniziale era proprio quello di costruire, di avere una base, di costruire poi nel tempo una situazione che aiutasse le giovani ad esprimersi pensando poi alla direzione che questa società ha avuto nel tempo, una direzione storica che va ad abbracciare le categorie più giovani e a seguire le categorie più giovani nel loro percorso di crescita. Si aspettano ora i recuperi di alcune partite, si conoscerà quindi anche la vostra avversaria per i play-out. Come ci arriva la squadra? Sì, innanzitutto l'avversaria diciamo che è tra due squadre, una di Cagliari-Astro e l'altra invece della provincia di Sassari, Dinamo 2000. A prescindere da quella che sarà l'avversaria, la squadra tiene alto il morale, soprattutto dopo l'ultima prestazione, che certifica la crescita avvenuta durante l'anno. Il morale è comunque alto e cercheremo di onorare fino alla fine quello che è un campionato molto impegnativo, ma sicuri che la nostra crescita è stata costante ed è stata duratura durante tutto l'arco del campionato. Ed è davvero tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale Orel Meteo. Grazie come sempre per l'attenzione. Arrivederci.